Il Procuratore della Repubblica di Teramo Antonio Guerriero sollecita gli enti competenti in primis la regione Abruzzo sulla messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso. Un appello che arriva subito dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura Teramana per pericolo di inquinamento dell'acqua di 10 nomi tra i vertici dei Laboratori Nazionali di Fisica Nucleare, di Strada dei Parchi e di Ruzzoreti. La Procura della Repubblica ha il dovere di informare i cittadini sul pericolo che corre l'acqua del Gran Sasso. Abbiamo il dovere dopo decine di richieste di cittadini, dopo interpellanze parlamentari, di informare che è stata esercitata l'azione penale nei confronti di 10 soggetti su cui si paluterà. Ma nel frattempo credo che attendiamo di conoscere cosa faranno le autorità amministrative dopo che è stato predisposto un progetto che è stato depositato alla Procura. Vogliamo sapere nell'autonoma loro determinazione cosa intenderanno fare per far cessare il pericolo di inquinamento. Ci sono dei termini? Non abbiamo dato nessun termine, i termini sono dati dalla legge, noi non assegniamo dei termini. Credo che loro devono rispondere non alla Procura, devono rispondere alla popolazione abruzzese. Il Procuratore Guerriero ricorda che la Regione Abruzzo ha depositato una corposa delibera dove sono indicate le linee degli interventi da effettuare per eliminare il rischio ambientale legato alla vicinanza delle falde acquifere, ai laboratori e all'autostrada 24. La Procura invita dunque gli enti preposti a fare presto.